Monica, puoi raggiungermi? Grazie. Funziona. Immaginatevi nella mia posizione. Sto per presentare la persona che ha dato il suo nome a una legge che ha cambiato, o cambierà di certo, la vita di molti di noi, una legge che ci ha donato la degnità e che ha permesso al nostro obese di guardare in faccia tanti paesi amici con cui amiamo confrontarci. È un grande onore, un grande onore per me presentare la senatrice Monica Cirina. Io mi permetto di chiamarti Monica anche in una situazione così ufficiale e vorrei ringraziarti a nome mio, a nome di Parks e a nome di tutti i presenti per aver voluto accettare questo invito e condividere con noi un po' di storie, un po' delle esperienze. ho pensato come presentarti, senatrice della Repubblica, laureata in legge, primo incarico politico, era consigliera nel comune di Roma, imprenditrice agricola e credo anche dichiarata come personaggio gay 2016 del gay.it. Avrei potuto presentarti diversamente, sicuramente. Gattara. 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 Ma va bene. Va bene tutto quello che hai detto, ma in un contesto così va bene Monica. O la strega, visto che avete l'orco. Sapete che i giornalici hanno definito l'orco e la strega, quindi va bene così. Va bene. Ma noi anche di quello abbiamo gioito. Monica, tu sei un viso noto a tutti, tutti ti hanno visto in televisione, tutti hanno letto e sentito il tuo racconto di quello straordinario percorso legislativo che ha portato all'approvazione di questa legge a cui abbiamo dedicato praticamente tutta la giornata del nostro forum. tutti abbiamo visto e sentito, però averti qua con noi è tutta un'altra cosa, un'altra esperienza. Io sarei felice se tu volessi condividere con tutti noi questo percorso. Le speranze, le difficoltà, il sostegno che arrivava da fuori, dalle persone, dalle persone comuni. I media, scusate, come ci hanno aiutato, come hanno non aiutato. Gli occhi di tutto il mondo erano puntati su di noi. Bene, intanto grazie Igor per questo invito e grazie a Ivan che mi ha fatto fermare la data in agenda da oltre tre mesi e grazie a voi per essere qui e per questa accoglienza così calda che mi avete riservata. Io ho avuto un'opportunità nella vita di vivere una straordinaria avventura, ma una straordinaria avventura dal punto di vista umano più che dal punto di vista politico. È un'occasione di far crescere in meglio questo paese attraverso una legge che da trent'anni si doveva fare, senza mai riuscirci, dove non sono riuscite persone con la caratura politica, con la storia politica, forse anche con la preparazione politica, anche più importante e più profonda e più ampia della mia. Storie politiche importanti, chi veniva da grandi partiti come il PC, chi veniva ancora di più da partiti di lunga storia parlamentare come la democrazia cristiana. Pensare che è una che ha fatto la consigliera comunale per vent'anni a Roma, nei Verdi, che ha cominciato ad occuparsi di diritti degli animali, poi degli immigrati, poi dei barboni, poi degli ultimi, poi della pari rappresentanza politica e amministrativa delle donne. Insomma, quando io venne incaricata di essere relatrice sulla legge su unioni civili, ci furono tre reazioni diverse. La prima, la più bella di tutte, quella del mondo delle associazioni LGTB, ci fu uno scambio di telefonate, ma questa chi è? E nessuno sapeva dire niente e quindi qualcuno ha detto va bene, la metteremo alla prova e vediamo. Un altro tipo di reazione è stata, beh certo l'hanno affidata a una neoeletta perché tanto la legge non la vuole fare nessuno e quindi sicuramente è un modo per affidarla a persone inesperta. Il terzo commento è stato quello delle persone che mi conoscono da tanti anni, che lavorano con me da tanti anni e una in particolare, la persona che più mi conosce al mondo, che è mio marito, che ha detto quella sera stessa hanno fatto un grande errore perché non conoscono la tua determinazione. La tua tigna, si dice a Roma. E quindi io ho vissuto una straordinaria avventura lavorativa e politica nella quale ho potuto toccare con mano che l'Italia che è fuori dai palazzi, che è fuori dal Parlamento, è un'Italia migliore, è un'Italia più avanti, è un'Italia più aperta nella quale poi si contendono situazioni molto diverse. Abbiamo avuto due piazze del Family Day, abbiamo avuto quello che abbiamo avuto da parte di una pezzo della Curia, abbiamo avuto riscatti e rivolte di omofobia, abbiamo però avuto anche migliaia di persone che ci hanno chiesto di andare avanti e centinaia, forse ormai siamo quasi al migliaio di persone che mi hanno scritto da sconosciuti. La mia casella di posta elettronica del Senato è pubblica, basta andare sul sito del Senato e ogni senatore appena viene eletto ha una casella di posta elettronica. Quella casella di posta elettronica era diventato un po' la cartina tornasole e io, Ivan, Sergio Lo Giudice e il presidente Zanda, l'abbiamo utilizzate queste spinte che venivano da fuori che è il mondo che voi conoscete, che voi frequentate tutti i giorni, le abbiamo utilizzate per capire che non stavamo sbagliando, che nonostante chi stava sempre col freno a mano tirato, chi voleva sempre fare ostruzionismo, chi voleva fermare la legge, in realtà non rappresentava la maggioranza di quell'Italia che è molto più avanti. Io lo so, questa non è la miglior legge possibile e non è neanche la mia legge. Io appena mi sono insediata nel febbraio del 2013, pur non conoscendolo e non avendo nessuna contiguità politica con lui, firmai la proposta numero 15 del senatore Lo Giudice che era quella per avere il matrimonio ugualitario anche in Italia. E parecchi senatori del PD firmarono la proposta 15. Poi ci siamo subito resi conto che per la conformazione politica di questo Parlamento e anche per la conformazione politica che abbiamo dentro il Partito Democratico, il matrimonio ugualitario non aveva i numeri. E quindi ci siamo detti, vogliamo provare ad arrivare alla miglior legge possibile in questo Parlamento con questi numeri, con tutti i diritti che riusciamo a mettere dentro oppure vogliamo aspettare ancora. Ma aspettare ancora vuol dire lasciare ancora fuori dalla porta, fuori dai diritti, fuori dal nostro ordinamento centinaia di coppie, centinaia di famiglie anche con bambini che non esistono per il nostro diritto. E quindi ci siamo arrotolati le maniche e abbiamo cominciato questo percorso che è durato due anni, che è stato difficile, durissimo e che è stato un percorso politico nel quale noi abbiamo cercato di fare quello che si era fatto con le due più grandi riforme degli ultimi anni di questo Paese. Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia, negli anni successivi la legge sulla maternità responsabile. Due grandi riforme che sono passate con la maggioranza più ampia rispetto alla maggioranza di governo. E quando ci siamo guardati negli occhi, io, Ivan, la ministra Boschi, lo stesso Renzi, abbiamo detto se vogliamo fare a meno di questo collega e compagno di governo così retrivo, così chiuso, com'è il nuovo centrodestra, dobbiamo tentare una maggioranza ampia, parlare con gli amici e i colleghi di SEL, e quindi gruppo misto, e parlare con Movimento 5 Stelle. Due anni fa, chi di noi poteva dire un no assoluto a trattare con loro? Noi non ce la siamo sentita, abbiamo detto proviamo, proviamo a costruire una relazione. E io ho fatto quattro testi della legge su unioni civili, chi con me ha seguito questo percorso lo sa, penso alle associazioni, a chi è stato anche al tavolo tecnico che abbiamo messo in piedi in questi mesi. In tutte le quattro versioni che io ho scritto, M5S era sempre presente, sapeva sempre tutto, hanno votato il testo in commissione due volte. Quindi noi abbiamo tentato di tenerla fino al primo giorno possibile, quell'accordo in piedi. Tant'è che siamo arrivati al 16 febbraio in aula, tentando di salvarci dagli emendamenti della Lega, i famosi 5.000 emendamenti di Calderoli fatti con l'algoritmo, forti di questo accordo e continuando a tenere la porta chiusa a nuovo centrodestra che continuava a chiederci lo stralcio dell'adozione, lo stralcio della reversibilità, lo stralcio di alcuni diritti sociali, l'equiparazione formale del rito di diritto pubblico davanti al sindaco, quello che sta già accadendo meravigliosamente davanti ad alcuni sindaci, e noi continuavamo a tenerla chiusa, quella porta, perché la leggina che voleva nuovo centrodestra a noi non interessava, non interessava a voi, non interessava al Movimento. E allora l'accordo che ha durato fino al 15 febbraio a mezzanotte con Movimento 5 Stelle ci consentiva quei numeri che alla Camera abbiamo da soli e al Senato non abbiamo da soli. La tua domanda è quella di un racconto, io non voglio essere troppo lunga, però vi posso raccontare che il giorno più brutto è stato il 16 febbraio. Il 16 febbraio? Il 15 febbraio è il giorno del mio compleanno. E io prima di mezzanotte avevo ricevuto un messaggino del senatore Irola e l'avevo considerato l'ultimo regalo di una bella giornata, i regali dei miei figli, i regali dei miei fratelli, una cena a lume di candela con mio marito, tornando a casa a piedi, verso mezzanotte meno un quarto mi sento titin, leggo il messaggio, era il messaggio del senatore Irola che mi dice tutto a posto, ce l'ho eh, ce l'ho nell'iPhone, tutto a posto. Abbiamo fatto la riunione del gruppo informale per contrastare gli emendamenti della Lega, abbiamo visto l'emendamento canguro del senatore Marcucci ci dovrai dire tu domani quando arriviamo in aula se lo votiamo intero o lo votiamo spacchettato, ma noi lo votiamo. Non lo dire a nessuno, ma domani questa decisione sarà sancita dal gruppo completo e non dal gruppo ristretto che abbiamo finito adesso. Buonanotte, ancora auguri, e io rispondo grazie, un bel regalo, buonanotte. Il giorno dopo, il martedì, arrivo molto presto in Senato, vado dal senatore Zanda, gli dico Zanda hai parlato con la capogruppo dei Cinque Stelle e lui mi dice sì, ieri ho avuto assicurazioni, siamo pronti col canguro, hai parlato con gli altri capigruppo, insomma io sono una formica del Parlamento, non è che chiami capigruppo, non chiamo il governo, eventualmente ricevo, ma insomma aria abbastanza tranquilla, fino a metà mattina. Verso mezzogiorno, le relazioni tra gattare. Verso mezzogiorno, mi chiama la capogruppo di SEL, già assessora con me con Rutelli, Loredana De Petris, e mi dice, mamma stai in Senato? Dico sì, sto in Senato, dove stai? Sto in Sala Garibaldi, vengo. Vengo, sbiancata. Dico, Loredà, M5S non finisce la riunione del gruppo, sono chiusi dentro da stamattina alle nove. Dico, ma tu come lo sai? Lo sai che io al misto ho i fuori usciti, che però alcuni hanno relazioni ancora con i colleghi, se stanno a scannare. Romanesco proprio. Beh, Loredana è così. Io ho la mamma milanese, un po' mi tengo. Dico, vabbè. Dico, vabbè, Loredà, che dobbiamo fare? Dice, vabbè, non ti preoccupare, mettiamoci qui con i telefonini, mandiamo qualche messaggio. Mandiamo qualche messaggio, dopo un po' a lei, non a me, rispondono, il gruppo si sta per chiudere, voteremo a minuti, la decisione è di non votare il canguro. Era l'una, più o meno, del martedì 16 febbraio, e io ho detto, la legge è morta. La legge è morta. Perché se io devo fare una legge che non ha, devo tornare nell'accordo di governo, e fare una legge che non ha la reversibilità, che non ha il rito di diritto pubblico, che non amplia tutti i diritti sociali, non la faccio. Perché come esco fuori da qui, come mi relaziono con le associazioni con cui ho lavorato per due anni, con le centinaia di persone che mi hanno scritto lettere bellissime. Questa legge non la vuole Monica, ma non la vuole Ivan, non la vuole la Boschi, non la vuole Renzi, non la vuole nessuno. In quelle ore che mancavano all'aula, il martedì si va in aula alle quattro, ognuno ha tentato l'impossibile. Sono state fatte anche delle telefonate a Milano, alla Casaleggio. Ognuno ha tentato quello che poteva fare. Ma il muro era ormai invalicabile. La decisione era presa, era stata presa qua a Milano. I colleghi del senatore i senatori non rispondevano più alle telefonate, non rispondevano più ai messaggi. E credo che per dimostrare l'input terribile che il gruppo dei senatori aveva avuto dall'alto, è che loro hanno usato per l'aula il metodo stalinista puro. Cioè far parlare in aula per primo contro il canguro e contro la legge proprio il senatore Airola che per due anni aveva lavorato con me, alla legge, agli emendamenti e a tutto il resto. Quella è stata la prova provata di come hanno anche schiacciato, posso dire anche con rammarico e con affetto nei suoi confronti, nella dignità una persona che aveva fatto con me assemblee in tutta Italia, anche con gli amici e i colleghi di Archie Gay in giro, e comunque si era speso sui giornali dicendo M5S è talmente favorevole alla legge che noi abbiamo fatto zero emendamenti, anzi, siamo noi i cani da guardia della Cirinna, perché se lei vuole fare trattative, noi ci tireremo indietro perché la legge la vogliamo così. Quindi il 16 febbraio è stato il giorno più brutto della mia vita, ma anche il vostro giorno più brutto, perché noi abbiamo dovuto chiedere l'accantonamento della legge e abbiamo dovuto fare la scelta più difficile, andare avanti col percorso d'aula e affrontare gli emendamenti, oppure tirare i remi in barca, rientrare nel patto di governo, piegare l'alleato di governo, ma non senza aver ceduto qualcosa che fosse per loro estremamente simbolico e rappresentativo. E quello che nella mia dichiarazione in aula è stato definito il buco nel cuore è certamente il buco più grande, più pesante e più difficile che c'è nella legge, che è quello della genitorialità e della filiazione, e quindi portare a casa tutti gli altri diritti fondanti della legge, che erano appunto i cinque punti che erano nel canguro, il rito di diritto pubblico, la genitorialità attraverso l'adozione coparentale, la reversibilità, l'asse ereditaria e i diritti sociali. Di questi cinque punti fondanti noi ne abbiamo perso uno, il più doloroso, il più triste, e dall'altra parte anche il più bello, perché cosa c'è di più bello che avere un bambino in famiglia, e quindi noi non possiamo più dire che questa, la diciassettesima legislatura, è quella che ha reso i figli d'Italia tutti uguali. Lo abbiamo fatto finché abbiamo equiparato i figli naturali, i figli legittimi, con la legge che abbiamo approvato quando era ancora premier Letta, ma adesso ci sono i bambini arcobaleno che sono ancora fuori da tutto, quindi non possiamo più dirlo e sappiamo che su questo dobbiamo ancora lavorare. Lo dico con dolore, lo dico con dolore perché io credo, e rispondo a un'altra parte di domanda, che è quella relativa al lavoro fatto dai giornali e dai media, io credo che la disinformazione, l'uso strumentale e l'intrusione nel dibattito pubblico e politico di argomenti che non centravano nulla con la legge e che sono stati usati anche dai grandi giornali, sono stati certamente un'arma, una freccia all'arco di chi non voleva la legge. Continuare a parlare di adozione gay, continuare a parlare di gestazione per altri, sono state le armi più favorevoli non solo al nuovo centrodestra ma anche a tutti i nemici che abbiamo avuto in Parlamento ma anche a tutti i conservatori ovunque seduti dentro e fuori dal Parlamento. Io sfido chiunque a dire che nella legge si è interferiva con la legge 40, che questa legge aprisse la porta al matrimonio egualitario e che questa legge in qualche modo legittimasse pratiche di procreazione assistita che in questo Paese sono vietate. eppure questo è accaduto. Eppure grandi giornali io lo so perché con Ivan ci facevamo la rassegna stampa all'alba e ci dicevamo delle parole irripetibili su hai visto quella puntini di titolo di oggi di X hai visto quell'altra accia sul Corriere hai visto quella insomma Repubblica e il Corriere non hanno brillato in titoli e in informazione in una fase in una certa fase poi forse anche loro hanno capito che l'aria era cambiata fuori e quindi in qualche modo ci si sarebbe arrivati alla legge ma io credo che anche nei grandi media nelle grandi televisioni ci sia stato un contenzioso una scommessa sotterranea non ce la faranno mai mando va la Cirinna mando vanno non ce la faranno sì ce la faranno forse ce la faranno forse svenderanno dei pezzi ecco credo che tutto sia stato strumentalizzato anche nella grande informazione e posso dire e l'ho già detto altre volte che se noi siamo arrivati alla legge ci siamo arrivati sicuramente per una caparbietà forte del partito democratico di Renzi della Boschi di Ivan Mia di Sergio e altri ma ci siamo arrivati per due motivi fondamentali il primo il movimento ha fatto un atto di coraggio enorme pensate alle piazze del 23 gennaio il movimento ha smesso di dire un matrimonio o niente e quindi ha messo alla prova la politica ha messo alla prova chi doveva includere finalmente le vostre vite dentro l'ordinamento giuridico e l'altra l'altra cosa fortissima dal punto di vista umano e che ha convinto tante persone è stata la voglia di dimostrarsi per quello che si è meravigliose persone normali tanti di voi hanno messo la loro faccia in trasmissioni televisive in dibattiti pubblici in interviste sui giornali e più di tutti fatemelo dire anche se sono state sicuramente le più penalizzate dalla legge famiglie arcobaleno chi ha avuto il coraggio di mettere i propri bimbi nelle trasmissioni televisive coraggiosi coraggiosi per dimostrare che tra quei bambini e i miei tra i bambini arcobaleno e i bambini di Monica Cirinna ormai grandissimi non c'è nessuna differenza ormai gli italiani l'avevano capito tutti l'avevano capito Marilena Simon Puccioni gli amici di famiglia arcobaleno Roma che in tanti hanno partecipato trasmissioni televisive che poi la mattina li portavano a scuola e trovavano accoglienza e trovavano festa proprio perché avevano avuto il coraggio di dire all'Italia che si può essere genitori arcobaleno che questi bimbi sono meravigliosamente uguali ai nostri che crescono bene e che sono avanti purtroppo la legge è andata così non è la miglior legge possibile però abbiamo buttato giù il muro di Berlino quando è caduto il muro di Berlino tutto è cambiato Monica prima ho detto abbiamo una legge che ha cambiato inizia a cambiare e cambierà la vita di molti di noi ci ha donato la dignità io sono felicissimo che a molte domande che ti avrei fatto di cui abbiamo avuto uno scambio prima tu hai già risposto e io stavo qua come tutti gli altri a vivere insieme a te quei momenti c'è un'ultima domanda che ti vorrei fare nei comuni in cui è possibile farlo noi oggi possiamo unirci civilmente certo che quando ci uniamo civilmente non diciamo il giorno dopo ci siamo uniti diciamo ci siamo sposati il mio marito mia moglie sapendo che in fondo pensiamo alla controparte nell'unione civile possiamo pensare in un momento in cui possiamo potremmo dire marito e moglie senza sé senza ma io penso di sì tanti altri grandi paesi europei sono passati per le unioni civili e poi sono arrivati al matrimonio egualitario penso all'Inghilterra penso alla Francia penso ad altri paesi però questa cosa la penso come dire come se noi avessimo un giano bifronte una medaglia con due facce io penso che sia bello dire farò la mia unione civile il 25 ottobre e poi di fatto invitare gli amici a un matrimonio e dire mio marito mio marito mia moglie mia moglie io stessa celebrerò a breve alcune unioni civili e dirò i due mariti o dirò le due mogli bellissimo dall'altra però questo è importante perché è il cambiamento culturale in tanti l'abbiamo detto durante l'iter della legge anche con Ivan quando in sala matrimoni del comune di Milano ci sarà il matrimonio civile di Monica e Carlo e l'ora dopo ci sarà l'unione civile di Anna e Giovanna e ci sarà lo stesso rito lo stesso sindaco con la fascia si tirerà il riso si andrà con le bomboniere si andrà a fare il festeggiamento il cambiamento culturale e sociale sarà passato l'inclusione di questa nuova famiglia ci sarà vedo un risvolto della medaglia però e su questo facciamo tutti una riflessione insieme questo nell'immaginario collettivo potrebbe dire vabbè ma basta ci avete tutto perché volete il matrimonio di fatto ce l'avete e no perché noi dobbiamo ribadire che sicuramente dal punto di vista dei diritti sociali questo è un matrimonio civile perché i diritti sociali sono tutti estesi i diritti patrimoniali e l'asse ereditaria è tutta estesa ma il buco della filiazione noi lo dobbiamo comunque riuscire a colmare e allora è vero che possiamo modificare la legge sulle adozioni e di introdurre l'adozione coparentale dell'articolo 44 e non ci accontenteremo della lettera D ma introdurremo la lettera B ma quando arriveremo io penso presto e ti dirò quale strada ho in mente abbiamo in mente quando arriveremo al matrimonio egualitario non ci sarà più un problema di adozione coparentale ma ci sarà la filiazione e basta ci saranno quegli articoli sarà possibile iscrivere il bambino all'anagrafe immediatamente come secondo genitore pure se si è genitore sociale non genitore biologico ci sarà la possibilità dell'adozione legittimante dell'articolo 6 quella che consente a tutti di salvare un bimbo in una casa famiglia italiana ci sono 15.000 bambini nelle case famiglie italiane e io sono convinta e lo dico con amore e rispetto per il percorso meraviglioso che hanno fatto tanti papà arcobaleno in California in Canada in Inghilterra sono sicura che molti di loro potranno scegliere un'adozione piuttosto che quel percorso lì che comunque non è ancora ammesso dalla nostra legge poi apro e chiudo parentesi io credo che un paese civile possa aprire alla gravidanza per altri quando essa è di natura sociale perché sulla legge californiana io non ho nulla da dire sono stata allevata come giovane ragazza femminista negli anni 70 e la prima cosa che mi è stata insegnata è che il corpo è mio e decido io quello che ci faccio quindi se voglio fare una gravidanza per mia sorella che è stata operata di utero e d'ovaie perché ha avuto il cancro da 30 anni va bene se lo voglio fare per Paolo e Giovanni che sono due uomini e da soli non possono farlo non va bene perché? però il nostro paese il nostro paese deve ancora farla una strada sociale e culturale in questo senso e questo percorso non lo può fare solo la politica questo percorso si fa continuando a tenere in prima fila famiglia Arcobaleno continuando a raccontare di come crescono questi bambini si fa con l'aiuto di Agedo perché provate a sentire le nonne di Agedo come sono incazzate e che effetto che fanno sulle altre donne questo io ve lo dico perché l'ho provato in questi due anni la politica non può fare niente da sola se il tessuto intorno non cambia e quando io ho portato la mia mamma ad un incontro delle mamme di Agedo la mia mamma è tornata a casa 76 anni milanese cattolica di famiglia di buona famiglia come si diceva una volta è tornata a casa e mi ha detto non lo so se posso dirti che sono stata fortunata ad avere quattro figli eterosessuali perché alla fine non ci sarebbe stata tanta differenza io gli ho detto mamma dillo a tutte le tue amiche intanto che si avvicina Ivan il mio orco il mio orco preferito no io volevo soltanto dire una cosa che non ho mai detto a Monica in privato però mi pare giusto dirla in pubblico Monica è stata un'incredibile fonte di ispirazione per noi e io sono contentissimo che la legge si chiami Cirinna perché lo dico per davvero perché penso che sia davvero meritato Monica ha avuto un ruolo fondamentale innanzitutto la bellezza di avere qualcuno che combatte per i nostri diritti e lo fa senza essere necessariamente dei nostri riconoscendo che questo è un problema nazionale l'assenza di quella legge anche i buchi di questa legge non sono un problema delle persone omosessuali o delle famiglie omosessuali sono un problema dell'Italia e quindi il fatto che una senatrice che aveva fatto tante battaglie ma non ancora questa l'abbia abbracciata con questa passione con questa determinazione con il calore tra l'altro che tutti avete visto quest'oggi chi non conosceva Monica personalmente credo che in 20 minuti abbia saputo moltissimo di lei è stata fonte di ispirazione incredibile anche per chi queste battaglie le aveva fatte in varie modalità per tanti anni e quindi Monica è stata davvero ha dimostrato delle doti di leadership pazzesche è un cuore incredibile è stata una trascinatrice nelle battaglie di aula era instancabile perché poi l'aula del senato è molto molto piccola ed è anche più difficile dell'aula della camera perché nell'aula della camera non c'è l'eye contact mentre nell'aula del senato tra avversari politici ti viene proprio di menarti perché sei talmente vicino che l'aggressività traspare e lei ha raccontato prima di quel 16 di febbraio quando appunto io sono entrato in aula perché correvo dalla camera dove stavo seguendo un altro provvedimento ho trovato Sergio Lo Giudice e Monica che erano verdi dalla FAT si vedeva che avevi stato nei verdi si vede quel giorno è venuta fuori la precedente passione politica e davvero io penso che abbiamo dato grazie anche a Monica un colpo di reni che poi alla fine ci ha consentito di salvare una situazione che davvero sembrava sembrava finita però io tengo oggi di farlo in un posto che ritengo casa mia come Parks davvero di ringraziarti per quello che hai fatto e disse sì sì Monica ma hai avuto un ruolo davvero molto importante tu sei una persona ovviamente umile però è giusto che ti sia riconosciuto anche davanti a tutti un lavoro straordinario che hai fatto e noi ti siamo veramente tutti grati e ti amiamo molto io devo 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 rispondere alla domanda di Ivan di Igor e noi abbiamo una sfida noi abbiamo una sfida davanti che è la risposta che devo all'ultima domanda quando il matrimonio è qualitario noi abbiamo una sfida davanti che è quella del congresso quella del congresso del partito democratico perché non possiamo pensare che i grandi cambiamenti delle leggi di questo paese non passino anche per l'elaborazione politica non ve lo sto dicendo da dirigente nazionale del PD ve lo sto dicendo perché se noi siamo arrivati alla legge su unione civili ci siamo arrivati perché era nel programma elettorale del partito democratico ed era in tutte le mozioni congressuali del partito democratico unione civili era nel programma di Bersani era nel programma di Civati era nel programma di Cuperlo nel programma di Renzi e anche nei congressi precedenti dove era candidato Ivan allora la sfida noi la vinciamo e su questo ho bisogno di te se in tutte le prossime mozioni congressuali del partito democratico ci sarà il matrimonio egualitario e il problema sarà nostro della mozione di maggioranza tu lo sai sarà più difficile metterlo per noi nella mozione di maggioranza che non nella mozione di minoranza di Cuperlo e degli altri segretari che si presenteranno adesso non so se sarà speranza o chi sarà però quello è il primo passaggio vero che noi dobbiamo fare sperando poi che tutto quello che ci aspetta dal referendum in poi vada in positivo ma se l'impegno è unico e coeso dentro il PD sarà più facile poi bisogna vincere le elezioni con un sistema elettorale che non ci costringa a votare con i nostri avversari perché il tema di avere un sistema politico nel quale il sistema costituzionale e la legge elettorale creano alleanze innaturali è proprio lì che lo vedi io sono non faccio politica oggi ma insomma alla fine sarà importante anche questo grazie grazie Ivan grazie Monica grazie a nome di tutti grazie grazie a tutti